Più di 10 milioni e mezzo di euro dal Fondo Gorizia alle imprese in realtà socio-economiche del territorio isontino. Ammontano infatti a 10 milioni 765 mila euro le risorse deliberate dalla giunta integrata del Fondo Gorizia per il 2019. Nel 2018 il totale era stato di 7 milioni. Abbiamo stanziato circa 3 milioni in più dello scorso anno proprio perché il momento è delicato. Noi vediamo che Gorizia centro ha dei problemi, stiamo cercando di individuare delle linee che abbiamo già individuate con una sorta di progetto che andremo a definire nei suoi contenuti. Ma la logica e le assegnazioni del Fondo Gorizia da questa annualità cambiano con una programmazione studiata sui risultati ottenuti nel periodo 2009-2016. Dall'analisi emerge che il beneficio economico netto negli anni presi in esame è stato di 411,4 milioni di euro in un periodo caratterizzato da una grave crisi economica. È un dato significativo per quello che è il futuro. Cioè noi abbiamo avuto dei moltiplicatori che hanno visto investimenti superiori ai 400 milioni di euro. È un dato significativo per una provincia così piccola ma è quello che è importante e quello che faremo nel futuro. Mi sento di dire, riassumendo un po' il concetto di tutte le anticipazioni che abbiamo dato oggi, che abbiamo disposto i binari per rilanciare il treno dell'economia di questo territorio. Ci sono progetti importanti. Tre progetti di sviluppo del territorio, molti dedicati al capoluogo. Per la creazione di un city outlet naturale. Nel centro città è un primo esperimento a livello Italia, non esiste in Italia un discorso del genere perché tutti gli altri vengono creati in periferia.